però con quella moto così rumorosa non va mica bene buono no? com'era? 45 minuti e gli ha detto i giglioli? gli ha detto fai ancora 35 minuti quella madonna, fino in tangenziale? oh oh, finora finora vicino al fiume vieni avanti e vieni da sacco lì con la Honda adesso pari per il fiume nel fiume vedi sì vieni 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.